That's left is a window to my soul Come and get it Ci sono sfide che durano una stagione intera, fatte di emozioni e di tanti, tantissimi gol Quando in C1 ti incontri per la terza volta nella stessa stagione, significa che in ballo c'è qualcosa di decisivo Sei costretto a dover accettare il giudizio del campo, quello dove l'appello non c'è Olympus e Lido di Ostia sono due squadre profondamente diverse Che nella loro diversità hanno in comune la voglia di far gol con il loro pivò, 89 gol in due Il killer di casa Olympus porta il numero 5 e si chiama Gabriel Santini In campo non lo chiamano né Marco né Mariani, il pivò di casa Lido ha scritto sulle spalle Bomber Resa dei conti, dentro o fuori, Santino e Mariani, olgiata d'ostia, Olympus Lido, atto terzo Segui l'evento live in diretta streaming su futsalphander.it Lido e Olympus, Santini, un vero killer Con il Lido, Marco Mariani, ancora lui Con il Lido, Marco Mariani, ancora lui